io ho fatto un piano di studi storico religioso che non aveva niente a che vedere col cinema perché io sarei dovuto entrare nell'istituto di religioni del vicino oriente antico che era la mia materia preferita ho fatto cinque esami tutti 30 30 lode insomma era una materia che francamente mi piaceva tanto entrai al centro sperimentale perché rosselline vide tre miei film sperimentali piace che non posso far vedere perché si vedrebbero da quei film un verdone completamente diverso perché che fa delle cose sperimentali non c'entra niente con la commedia ero molto influenzato dall'underground americano degli anni alla fine degli anni 60 tutto allora rossellini vide quei documenti e mi presa al centro sperimentale a quel punto misi qualche esame per forza di anche di spettacolo chi è che c'era la carta da roma di storia critica del film mio padre e dissi se lini vuole che io perlomeno dia due esami dico eh mi pare giusto mi pare giusto però esistente di interrogerarmi dice vabbè venne il giorno dell'esame di storia critica del film allora andai la sera prima nello studio io vivevo ancora con i miei genitori andai nello studio di papà che stava sempre a scrivere sempre a scrivere ma senti domani c'ho l'esame eh ah allora ti prego io vorrei che mi chiedessi qualcosa sul neorealismo su fellini che sono molto preparato su pasolini se vuoi su zavattini sarei grato di evitare pabst e dreier andiamo su forza non mi dis queste cose non è serio fece dai papà non mi chiede tra i e pabst no no non l'ho fatti dai dai fammi scrivere capito fellini pasolini zavattini ora lì quello che ti fa non andare su quel capito capito ma ti dato l'interrogo un assistente e sarà quel che sarà no diglielo dai arrivai sala piena e e mancava l'assistente e poi il papà stava con un altro là guardare mi spiace molto e sarà una giornata dura per voi anche per me perché manca l'assistente purtroppo è malato e sarà un bel problema allora iniziamo iniziò in parola di alfabetico in maniera strana i primi tre subito 30 30 e lo 30 e lo e tutti con te a un certo punto lui fece mi dispiace non è corretto interrogare il figlio però manca l'assistente ma io cercherò di essere professore assolutamente obiettivo a me già sta cosa mi metteva dico ma c'è qualche idea strana è assolutamente obiettivo allora mi siedo prende anche una certa distanza dandomi del lei eh mi parli di papst allora io mi avvicino a lui e faccio lui mentre io dico Fellini cioè se ne va via con lo sguardo non intende minimamente e allora a quel punto visto come è data lei io dissi professore ha la parola professore tutti professore pure così ah purtroppo purtroppo quello è un capitolo che devo approfondire ancora meglio perché tutto quel cinema europeo degli anni 30 tra lui con una mano si ripresenti alla prossima sessione per il punto senti dietro di me oddio appocciate il figlio appocciate il figlio io non ero nessuno a quei tempi non facevo mica teatro appocciate il figlio sai ma andavo via veramente con una mestizia ma un'umiliazione tutti ma perché ti ho appoggiato ma vabbè ma vai tutti erano solidari con me vai a casa e l'aspettai lui entra normale ma che cazzo hai fatto poi gli dissi così e lui con un candore ce ne aveva il trencio 6 minuti la sera mi scocciava di far dall'idea del professore il padre che mi mette 30 al figlio mi girava a coglioni quindi prossimo esame la prossima sessione quando lo ripeti io ti chiedo papst e dry tu già lo sai quindi te li prepari e l'esame andrà bene io non ho mai frenato però una cosa mi hai fatto fare una brutta figura e te frega finì così però intanto mi bocciò e io passai per molte università quando passavo è quello che è stato bocciato il padre è quello che il padre ha bocciato quindi doveva essere una sega disumana invece avevo tutti i voti buoni tutti i voti alti è andata così però fu un padre adesso ripensarci lui ancora papà quando ci pensava rideva sempre gli piaceva tanto sto fatto che ha dimostrato perché lui è l'etica per lui mai una raccomandazione in vita sua mai niente ecco era un padre di quelli però onesti così che bocciava che interrogare il figlio e far passare il figlio no lui voleva dimostrare rigore e disciplina e alla fine me la soppre senza coccia che ciao